Buongiorno, ciao Deda, ti saluto a nome di tutta la Dario Flaccovio, siamo qui oggi per raccontare un po' del tuo libro, per cercare di essere vicini in questo momento di lontananza e come prima domanda ti chiederei di raccontarci qualcosa del tuo libro. Sì, allora in questo libro ci sono più di 20 esercizi che ho creato in questi anni di insegnamento, con degli studenti nelle scuole e con delle classi sperimentali attraverso dei workshop e anche con delle conferenze che ho tenuto in vari festival e iniziative in Italia. Questi 20 esercizi, più di 20 esercizi, insegnano un nuovo modo di approcciare la creatività e alla elaborazione non solo di idee ma anche di progetti. Nella prima parte c'è una suggestione che do alle persone su come cambiare il modo di ragionare, di approcciare anche alla quotidianità o al mondo della fantasia. E poi nella seconda parte ci sono più di 20 esercizi strutturati dove effettivamente la persona fa qualcosa e lo sviluppa. Ok, Deda ma il tuo manuale è un lavoro apprezzato sicuramente alle persone che si occupano per lavoro di scrittura, ma pensi che sia utile anche per un pubblico di adolescenti e persone che non scrivono per lavoro ma ritrovano un senso nella scrittura, anche in forma curativa in questo momento dove vediamo un gran numero di persone portate a scrivere contenuti, racconti, anche i giornali sono pieni in questo momento di racconti di vissuto delle persone, di cosa stanno vivendo. Pensi possa essere utile per approcciarsi a questo aspetto? Ti porto delle testimonianze dirette. Io ho avuto tanti allievi diversi, ho lavorato nelle scuole, nella scuola pubblica, quindi i miei allievi sono persone che lavorano nel mondo del copywriting e della comunicazione ma anche tantissime persone che non hanno mai scritto. La creatività non sapevano neanche cosa fosse e iniziando a seguirmi poi non ci siamo più lasciati, hanno seguito vari miei incontri, hanno seguito altri laboratori, dirigenti, mi viene un esempio, posso prendere proprio dei prototipi di persone, un dirigente di un grosso circuito di supermercati che pensava solo ai numeri, ha iniziato a fare i miei laboratori e poi non ha più smesso di scrivere e anche il suo modo di vivere la vita di tutti i giorni ha cambiato. Oppure una signora che per una vita si è dedicata ai figli, ad un certo punto ha iniziato a frequentare i miei laboratori, ad attivare la sua mente con i miei approcci e anche lì ha cambiato proprio il suo modo di fare delle cose, è come avere dei nuovi strumenti nella propria vita. Certo, quindi secondo te cosa cambia nelle persone allenando la creatività? C'è qualcosa che cambia, è qualcosa che muta? È come diventare magici, è come avere delle magie. Noi acquisiamo degli strumenti attraverso dei nuovi approcci e degli esercizi che ci sono in questo libro dove ogni giorno posso affrontare una conversazione con le persone in modo diverso perché ho innescato dei nuovi modi di vedere le cose e ho aperto delle nuove piccole finestre nella mia mente. Quindi cambio la relazione con gli altri, cambio il modo di vivere anche i miei momenti ludici e di portare creatività in qualsiasi aspetto della mia vita. Devo aspettare un'ora in fila, devo passarmi del tempo in un certo modo. Avendo attivato altre finestre nella mia mente creative, io quell'ora la ottimizzo in modo diverso rispetto a prima. Oppure devo creare un progetto, il progetto non mi sarebbe mai venuto in mente se non avessi iniziato un percorso di crescita fantasiosa al mio interno. Ok, un'altra cosa che volevo chiederti è su una definizione che ti è stata attribuita dalla Repubblica, definendo i tuoi metodi smagliature e disturbanti. Cosa significa secondo te questa attribuzione, questa aggettivazione che ti è stata data? Il disturbo, la smagliatura è come se fosse uno strappo. È disturbante perché io creo effettivamente delle inflessioni che cambiano della mia quotidianità attraverso creatività e attivo proprio delle nuove strutture anche perché se io inizio a essere fantasiosa io vado a creare anche nuove emozioni nella mia vita. Infatti parlo di strutturazione dell'emozione, ovvero io voglio creare un'emotività e un sentimento attraverso questi disturbi che creo nelle mie quotidianità. Quindi i sentimenti si possono costruire secondo te? Non è proprio una costruzione effettiva a tavolino, ovvero non è una cosa artificiosa, però noi umani funzioniamo che abbiamo degli impulsi quando dobbiamo reagire delle cose, ma questi impulsi sono comunque già definiti da delle cose che abbiamo dentro. Quindi reagiamo più o meno, possiamo avere due o tre impulsi differenti che poi si possono sviluppare in noi se c'è qualcosa che ci provoca. Invece io faccio in modo che ci sia una guida dentro di noi che prima sconvolge il nostro modo di ragionare come sempre. Infatti noi abbiamo sempre un certo pattern nella nostra testa, vediamo le cose in un certo modo, abbiamo quelle opinioni, quindi prima si prende il cervello e quindi lo strizzo per bene e gli cambio le posizioni come se fosse un cubo di rucco, ok? Quindi tolgo tutte le cose bene dei colori e li mischio tra di loro. La persona quindi ad un certo punto è confusa, si accorge che invece sta creando nuove sfumature dentro di sé e in modo naturale inizia a sentirle davvero quelle emozioni nuove, nuove, nuovi tumulti, nuove stimoli, nuove energie, questa è la creatività e la fantasia che poi può essere applicato ovviamente nel lavoro. Perfetto. Tu in questi anni hai creato molti progetti, so insomma che in questo periodo con il circolo degli scrittori avete lanciato un progetto proprio per questo periodo, vuoi raccontarcelo in modo che anche chi ci ascolta e ci guarda possa sapere insomma di questa iniziativa? Sì, creare progetti è un'altra conseguenza appunto della creatività, quindi quando tu nella testa inizi ad avere tanti stimoli, inizi poi ad avere anche tante idee per fare dei progetti e le mie competenze anche di saper collocare poi un progetto nel mercato diciamo mi ha fatto creare un'iniziativa assolutamente artistica e non lavorativa che si chiama il circolo degli scrittori. Noi facciamo degli raduni in Italia dove ci confrontiamo e perseguiamo l'arte dello scrivere, l'arte del comunicare, di fare poesie e abbiamo lanciato questo concorso che si chiama Postcard from the Disaster. Le persone scrivono 60 parole di riflessione, il disastro può essere anche personale e non solo nella società che stiamo vivendo e verrà fatto una mostra con dei cartelloni grandi, grandissimi, la prima mostra sarà a Ravenna che è la città dove io di solito vivo e saranno esposti nella darsena di Ravenna, quindi saranno cartelli giganti, passeggiando nella darsena di Ravenna sperando presto quando potremo uscire. Questi cartelloni ci ricorderanno che cosa è successo e cosa pensavano le persone, perché la domanda è che cosa rimarrà delle parole e dei pensieri delle persone, non vorremmo solo delle stories su Instagram, noi vogliamo qualcosa che vediamo rimane lì. Della ultima domanda che è anche un po' personale, come ci dai un esercizio da fare in questi giorni? Sì, allora intanto vi dico che è un mercoledì, c'è la mia rubrica che esce con voi dove faccio degli esercizi 10 minuti di creatività. Questa è una cosa veramente semplice che vi consiglio di fare, che non è un esercizio, è proprio un approccio alla vita diverso. Iniziate a parlare e a confrontarvi, ascoltare effettivamente persone che non stimate, quindi vuol dire anche persone che nel web parlano di cose che voi non perorate o non sottoscrivereste mai, però le dovete guardare perché in una favola una persona deve conoscere il lupo, il cappuccetto rosso, il cacciatore, deve sapere tutte le dinamiche per avere delle idee, per dovere di cronaca. Non vi piace quando potrete uscire, non vi piacciono i rave, faccio un esempio, ci dovete andare, con il vostro approccio, non con l'approccio del raver. C'è una persona che inizia a fare una discussione con voi e voi invece di star fissi nella vostra idea e tenervela lì, no, apritevi, ascoltatelo davvero e cercate di, immaginate che la conversazione della persona davanti a voi sia un albero. Voi invece di andarlo a tagliare questo albero andate ad aggiungere delle cose, aggiungete delle foglie nell'albero, l'altra persona aggiungerà la luce che passa tra le foglie, poi voi aggiungerete, non so, le sfumature della corteccia, è così che si crea una nuova energia e anche voi poi avete nuove idee sul vostro pensiero. Non giudicate, non tenete, abbracciate troppo le vostre idee, partite sempre, quello è l'albero centrale della nostra conversazione, dovete aggiungere, non dovete togliere o tagliare. Deda ti ringrazio, grazie da parte di Flaccovio e ti auguro una buona giornata. A presto. Anche a voi, grazie, ciao. A presto.